Sì, ma guarda, ma che diavolo è successo? Era tutto un sogno a quanto pare. Come siamo sgargiullanti e allegri. Che diavolo è successo. E' certo, come no? Molto buono. Tesoro, basta. Ah, tra l'altro Dex ha detto, non ho fatto caso. Non ho fatto caso a quello che ha detto su Dex. Stavo troppo impegnando a guardare la sua mascella. E certo, dove credi che sto andando? Tra l'altro non ho mai fatto un personaggio femminile. Non so se effettivamente c'è sempre sciondi come moglie slash marito. Preso. Molto difficile. E' strano questo giornale. Eh, certo. Arrivo subito. Acceler con cautela, frena per fermarti agli stop. Oh, guarda, sicuro. E andiamo a quanto? A 20 all'ora? Eh, sicuramente. Va bene. Ed eccoci arrivati. Ciao. Sono il vostro presidente. Ciao, ciao. Bella gente. Tranquilli, io sono il vostro bellissimo sindaco. Tranquilli, vi proteggo io. Che dolore. Grazie. Certo che possiamo fare una foto. Vieni qui, dai. Ma c'hai lo turnatore chiuso. Bella, bella. Ti ringrazio. Grazie. Grazie a tutti. Grazie, grazie. Qualcosa è strano. Anche il filtro colore. Niente parolacce. Ci guardano tutti malissimo. Qualcosa non va. C'è qualcosa che non mi torna. Ehi, lasciate in pace la mia macchina. Ecco fatto. E ora è il momento di fare un po' di casino. Ti sento, Kinzie. No time to explain. Ma dai, chi l'avrebbe mai detto? Io intanto continuo a investire gente, Kinzie, se non ti dispiace. Ecco qua. Che magari faccio un paio di punti in più. Investendo, boh, non lo so, 500 persone. E eccoci arrivati alla piazza della città. Aia, che dolore. Beh, almeno ce l'abbiamo fatta ad arrivare, forza. Se fai te stesso. Ecco qua. Abbiamo solo una pistola, vero? Su, 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 su. Mandatevi. Ho un po' più di nemici. Tranquilla, Kinzie. Adesso faccio io un po' di casino. Vieni qui. Ecco fatto. Un lanciarazzi. Kinzie, tu sì che sei come farmi felice. Tu sì che sei come farmi felice, Kinzie. Fai 100.000 punti di danno, eh. Niente di più semplice. Tra l'altro, Centro 4 c'ha un sistema di sfide diverso dagli altri. Mentre tutti gli altri Centro cosa succedeva? Tu avevi la sfida di livello difficile e dovevi completarla. Qua adesso in Centro 4 hai le sfide a quantità di medaglie, diciamo. Quindi devi prenderlo in tutte le sfide che trovi per tutta la città. Il che, a parer mio, è più pratico a livello di sfide perché perché non si è distrutto? Vabbè, comunque. È più pratico a livello di sfide però è una rottura di palle perché veramente molto spesso per per di loro per un paio di cazzate. Oh ma guarda il super poliziotto Dove sei? Uccidi lo sceriffo Ma smettile di muoverti Ecco fatto Distrutto Dammi quel fucile Eh, è troppo tardi Volevo prendermi il fucile E beccati questo Dove sei? Dove sei? Are you trying to kill me or sleep with me? No See, there you go with those mixed messages again Then allow me to be perfectly clear I am the architect of your reality I build what I want And I destroy what I want And I destroy what I want And your bravado means nothing E questo è vero Wow Bel casino Ziniac È solo una simulazione non puoi fare nulla qui Ah no Gentleman Ah no Eh certo Eh vai Libertà Sì Eh vai Cazzo Eh vai Eh sì Eh vai Possiamo cazzeggiare Yeah Eh che bello Sì Va bene Splendid Una bella giornata Con Ziniac Che fa i segni strani con le mani Che fe i segni strani È ande Eh Ahать Ha È Sì Sì Sta